L'Ovidiana Sulmona fa sul serio e si prepara agli importanti colpi di Orlando Aquino e Massimiliano Tuzzi. Si tratta di due elementi di categoria superiore per dare un tocco di qualità alla squadra che sotto la guida del riconfermato Candido di Felice vuole recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato. Manca solo l'ufficialità ma sembra ormai cosa fatta e i tifosi attendono con ansia l'arrivo del bomber Aquino che rappresenta un lusso per la promozione e si apprestano a salutare con soddisfazione il ritorno di Tuzzi. Orlando Aquino è una macchina da gol, reduce da 17 reti nella scorsa stagione con la maglia del capistrello, quinto nella classifica marcatori dell'eccellenza. L'attaccante campano classe 88 vanta un curriculum invidiabile con presenze in C1 con la Virtus Lanciano e in C2 con la Nocerina per poi approdare in Abruzzo realizzando molti gol con pende vastese per fare successivamente le fortune del paterno. A seguire le esperienze in D a Campobasso e Avezzano e in eccellenza di nuovo a Paterno a Giulianova e con i marchigiani del Ciabino. Insieme ad Aquino, Lovidiana Sulmona si appresta ad annunciare il secondo colpo chiamato Massimiliano Tuzzi. Centrocampista di Balsorano, classe 86, proveniente dalla Miterlina, con trascorsi importanti a San Buceto, Paterno, sfiorando la Serie D per ben due stagioni, Civitella Roveto, San Benedetto dei Marsi, Ortigia e Avezzano con due campionati in D. Nella stagione 2003-2004, inoltre, a soli 17 anni, vinse il campionato di C2 con il Mantova. Per lui si tratterebbe di un ritorno in terra ovidiana dopo il campionato 2016-2017 con l'allora sul Monesio Fena. Tuzzi ritroverebbe proprio a Quino dopo i trascorsi insieme nel paterno di Odice stagione 2014-2015. La società del presidente Oreste Dedeo è pronta a chiudere gli ingaggi per assicurarsi le prestazioni di due elementi di qualità in grado di regalare soddisfazioni agli sportivi di Fede Biancorossa.